This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. No, non c'è spazio per te nella rabbia che ho, ma se noia tu vuoi, tu le tinta di blu, perché ne hai tu? No, questa sera non so se sarò lì con te, è come panna su un cono d'estate, in estate, così fai tu. E' gelosia nell'inverno della tua anima, e' gelosia nel freddo della tua eronia, e' gelosia nell'inverno della tua follia, e' gelosia della brina che si accomoda. E dormirai con le mie scarpe appese al comor, per sentire l'odore più basso che mai ti darò. E' gelosia nell'inverno della tua anima, e' gelosia nel freddo della tua eronia, e' gelosia nell'inverno della tua follia, e' gelosia della brina che si accomoda. Nella nebbia che hai portato tu, non c'è, non c'è la vita mia. Settore Giada presents, fermati con me. Settore Giada Non andare via Settore Giada Settore Giada Settore Giada Fermati con me Settore Giada Settore Giada Settore Giada Settore Giada Settore Giada Fermati con me Frankie Storm Settore Giada 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 A Walk Alternative Band Proveniente da Carpi, attivi dal 2011. Il loro brano è Australe. Ora vivi, sparo al mio migliore amico e rido, o si rido. La legna morta nel bosco ora è casa per fantasmi. I laghi stagnanti ora a volte sono allucinogeni. Costringimi e legami e poi straziami. Dare un senso a discorsi paralleli, senza distorsioni temporali. Sono un uomo il mentale. Con i giochi di luce uso palloni per riprodurre il sole. Per capire il rumore. Costringimi e legami e poi straziami. Grazie a tutti. 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 I Got That Tribe, collettivo che mescola hip hop, rap e R&B, sia della East Coast che della West Coast. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, come, come. Grazie a tutti. 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 So, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.